Ma almeno quella, la Champions, la classifica ci sorride, abbiamo giocato due partite in trasferta, dispiace aver perso stasera, credo che per l'occasione che ci sono stati sul campo il pareggio fosse stato il risultato più giusto, così non è, in questo momento la Champions mettiamo da una parte, l'abbiamo sabato sera a Genova che sicuramente è una partita da vincere. La scelta è una scelta tecnica, per quanto riguarda le parole Gagliani, perché tutti i giorni il dottor Gagliani ripara le stesse cose, credo che in questo momento ci sia poco da parlare, ci sia solamente da cercare una vittoria che dovrà essere sabato. In questo momento il Malaga è la favorita del girone, anche per passare al primo posto.